Se siete bassini come me, se siete bassini come me, lo vedete qui? C'è a testa che la scarpa è bella e comoda, tantissime belle cose, io sono un tecnico delle scarpe, in maniera molto terra a terra. Questa cosa è altissima, vi fanno più, ragazzi, vi fanno più alti, potrete finalmente vedere le persone all'altezza corretta. Bella ragazzi, bella, bella, ciao a tutti quanti, è lì vero? È lì? Guarda bene lì? No, qui. Zeo non so dove sta, beh sì, è quella, è quella, è quella. È qua lì? Ah, è quella lì, ok, ok, scusatemi, distorcio. La cosa che ti vedevi più di questa stagione? Tu. No, te, va bene, va bene. Non era così? Io vorrei stringergli la mano, raga, quello che fai i nomi in Italia. Sì, sì, ma infatti mi aspetta tipo la torre torrosa. Non lo so, una cosa che non hanno un cazzo di senso i nomi, ma in questo viene, perché stanno fai da volo, do i nomi del cazzo alle città di Forche? Ci penso io! Sì, l'utilità che hai nella vita, intanto, però. Ci sta. Mi sa che un dipendente Epic mediamente può togna 20 volte mai, quindi ci sarà un motivo se lo fanno. Ma Pizz lo sai che si gioca nei chiavi di casa pur in essere privati fra amici, dai. Oh, un push a Pizz contro... Queen Giorgia contro Pizz. Attenzione. La Queen, la Queen contro il Pizz. Queen Giorgia non ci sta, vuole dimostrare di essere migliore. 11 MC contro Samsung. Attenzione. Io volevo dire... Questo è Iachino. Iachino, i rappiati di cambiare... Dai, sei fermo. Ragazzi, abbiamo avuto Iachino in regia per un attimo. Stiamo vedendo Luzaka 0-2, in alto a destra c'è il nome dell'aspetto del tizio. Abbiamo Achi, Achi HR, Inaig, che giustamente in... No, era giusto. Deve timer ad... Ma c'è un pace, no. Ha vinto, 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 vinto. Luzaka, questa è un'altra? Ok, l'ultima. Ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha. È la sua. Mi aspetto ai fini game, poi mi... Mi pappo tutto qua. Io aspetto ai fini game, però il Bram mi devo andare un attimo in bagno. È la sua. Questo è uno che deve necessariamente provare il cesto. Ma si può che stai da sotto la sappia? Attenzione! Return prova la giocata! Mamma mia, l'ha giocata! Mamma mia, l'ha giocata! Bellissimo, bellissimo! Bellissimo, quello che ha fatto... Ma l'ha giocata! Che clicca, bellissimo. Falle, se vedo perché non puoi sbattere qua otto volte. Vediamo. Allora, ghiaccio. Oh! Ce l'ha fatta? Santo Dio! È la porta sbagliata. È la porta sbagliata. È infatti. Non capisce. Ora non capisce. Non ha capito? Sì, sì, è comunque saltato. Tra 5-10 minuti non arrivo tra... Quell'orario... Di tre ore. Ah, ok. Ha capito. Ah, perché c'è poi il fuso dove inizia. Ok. Sì, sì. Comunque, Fede, quando si riuscirà a fixare un po' il discorso regioni, mi auguro presto, al di là della mia idea, a prescindere dalla certezza. Chiami le tasse, chiami l'emergenza e poi ti muovi. Ma chi è che hai chiamato l'emergenza? Ma di cosa si fa? Guarda che io ho studiato il tuo game prima, hai fatto la stessa cosa e l'hai fatta anche questa partita ora. No, no, chiama l'emergenza. E invece proprio sì, Vez. E vai volendo me lo spazio. Rether, lo studiatore di partite, lo chiamavano. Federica, se era come me, era come Federica. Ma cosa? Non è vero, l'ha detto. Io con la sola, cazzo, cazzo. Ma che gioco giocate? Vabbè, c'è... Ma io con la sola. No, vedi come è sotto a destra. Ma cosa? Non si può, non si può. Non si può così. Ma con che gioco, ma che gioco stai giocando? Ma chi è? C'è Rekshujiu che manco lo conosco. C'è Refesto che... Beh, l'ho detto mettilo qua. Ha una bella pelata, ha una bella pelata. Jams ha detto bella bella per te. Poi c'è Pizz che mi hanno flammato perché l'ho messo B, ha detto è più forte di te. E ho detto doppio di Power Ranking. Ha fammocca.